Mancano poco più di dieci giorni all'anniversario del terremoto di San Giuliano di Puglia. Sono passati tredici anni da quel maledetto giovedì quando il tetto della scuola Iovine, da poco ristrutturata e dotata di una sopraelevazione, si sbriciola travolgendo alugne e maestre. Sotto le macerie restano sepolti i corpi di 27 bambini e della loro insegnante. Una tragedia immane che sconvolge il mondo intero, che subito avvia un'imponente raccolta fondi, ma che distrugge soprattutto la piccola comunità del cratere, con un'intera generazione cancellata. A tredici anni da quel drammatico 31 ottobre arrivano anche i primi risarcimento alle famiglie. Il giudice, previati del Tribunale di Campobasso nella sentenza del processo civile intentato da tredici famiglie, ha riconosciuto un indennizzo di 320.000 euro per ciascun genitore, più la metà per ogni fratello delle vittime. A doverli pagare saranno i cinque imputati già condannati in sede di processo penale, e cioè responsabile dell'ufficio tecnico del comune Mario Marinaro, il progettista e direttore dei lavori Giuseppe Laserra, il sindaco di allora Antonio Borrelli, che nel crollo ha perso una figlia, e gli imprenditori Giovanni Martino e Carmine Abiuso, oltre che il comune di San Giuliano di Puglia, che è stato citato in giudizio insieme al Ministero dell'Istruzione, il quale però non è stato ritenuto responsabile. Le famiglie, assistite dagli avvocati Nicola De Pascale, Sante Foresta, Graziano De Giovanni e Marco Mancuso, avevano chiesto un milione di euro per ogni vittima. I legali ora valuteranno il possibile ricorso sull'esclusione del Ministero dalla sentenza di risarcimento. Già la Cassazione aveva deciso una provvisionale di 100.000 euro per ogni vittima, che però non è mai stata pagata. Ora si aggiunge anche la sentenza civile con un nuovo risarcimento, che però difficilmente i condannati potranno pagare. E' per questo che è probabile che le famiglie chiederanno l'intera somma, circa 10 milioni di euro direttamente al comune. Un debito prima di tutto morale, che il comune evidentemente potrà onorare solo con l'intervento dello Stato. Intanto si aprono le porte anche ai possibili ricorsi.